Anche rispetto a quella breve ma intensa esperienza che Carmina ha fatto in un sindaco, una persona professionista infaticabile, un genitore e credo che questa verità sia informabile per i tanti colleghi ma anche per chi lo ha conosciuto nella sua vita. Mi dispiace che lui, che è stato sempre presente, l'ultima volta che l'ho visto a portare la solidarietà a un definito di Saviano, erano pochi giorni, mai che lui non osservava il rispetto per le familiari e per i suoi cittadini e per gli amici, sempre presenti. Mi dispiace che è una grande emozione, noi non abbiamo potuto essere vicini in questo momento e vederlo per l'ultima volta, anche se non ha questo interesse. Lo salutiamo, carico, smargherai. Grazie 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 Grazie